Queste riforme stanno marciando, ci sono talvolta incidenti di percorso, ieri è accaduto in una commissione alla Camera sulla riforma costituzionale che su un emendamento il Governo è stato battuto. Recupereremo in aula perché non è possibile fare soluzioni pasticciate è perché questo voto è stato considerato un voto come segnale politico, così oggi alcuni dei deputati che si sono espressi in questa direzione hanno definito il loro voto. Dei segnali politici il Partito Democratico parlerà in modo molto chiaro domenica 14 durante l'Assemblea Nazionale. La riforma costituzionale andrà in aula alla Camera nel mese di gennaio e rispetterà i termini previsti come è giusto e doveroso che sia. Per quello che mi riguarda la legislatura finisce nel febbraio del 2018.